Buongiorno fanciulli, allora riaccomi ritornata con un nuovo video, oggi sono qui per registrarvi una sorta di video haul, tra virgolette, in cui fondamentalmente vi faccio vedere la carrellata di libri del primo anno che io ho preso per infermieristica. Mi mantengo sempre sul tema del primo anno perché comunque, soprattutto insomma in vista dell'inizio delle lezioni o comunque le nuove matricole del test d'ingresso eccetera, mi sembrava anche utile e carino e comunque è un video che voi mi avete comunque richiesto anche tempo fa, quindi sempre meglio tardi che mai. Voglio farvi vedere un pochettino i libri che io ho preso durante il primo anno, per fortuna di infermieristica diciamo così, io poi parlo sempre per il mio teneo, però ovviamente io penso che sia un po' simile anche insomma questo nelle altre università, diciamo che abbiamo vissuto abbastanza di slide e dispense, i libri io li ho presi, non ne ho presi chissà quanti se devo essere sincera, però ne ho presi alcuni. Per biologia, genetica, ho usato esclusivamente gli appunti o comunque le dispense che ci davano i professori, ho preso un libro di storia, intanto vi metterò la clip insomma, che in realtà io ho utilizzato per l'esame, ok? Era l'esame di fondamenti delle scienze infermieristiche ed ostetriche, oltre ad avere dispense, appunti eccetera, ho utilizzato quel libro lì di storia. Poi ho avuto il Craven, che per chi frequenta infermieristiche è un libro abbastanza famoso, che ho venduto dopo aver passato tutti gli esami del primo anno all'inizio del secondo anno. Ho venduto anche tra l'altro ad una ragazza che era nel mio stesso ateneo, ma poli diversi. Mi è stato utile sicuramente, ma non era indispensabile perché poi negli anni successivi ho acquistato altri libri, che secondo me erano sicuramente molto, ma molto più utili. Poi mi sono presa per anatomia il Martini, sicuramente lo potevo noleggiare in biblioteca, però alla fine ho detto, ma senti, ma almeno un libro mio di anatomia mi rimane. L'ho utilizzato, l'ho integrato con le dispense, gli appunti, penso di aver utilizzato anche l'anastasi di una mia amica che faceva medicina. L'aveva dato in prestito e poi io gliel'avevo appunto restituito, però tendenzialmente diciamo che mi sono preparata con dispense più il Martini come libro di anatomia. Altro libro che poi mi sono presa è stato quello di Fisiologia, che allora, l'ho usato tutto, non so quanto sia stato utile, non so per miracolo ho passato quell'esame lì. Diciamo che secondo me, cioè a pensarci dopo potevo anche farne a meno, ecco non è un libro fatto proprio bene bene bene, se devo essere sincera, per quel che ricordo ovviamente. Poi, per quanto riguarda farmacologia, patologia generale, assolutamente, patologia generale, statistica, tutte quelle materie un po' così, non avevo preso niente, assolutamente. Sia per, soprattutto, Scienze Biomediche 2, tranne il compendio di farmacologia. Diciamo che questo compendio qui me lo sono portata anche per il terzo anno, quindi è stato utile nel reparto, al di fuori del reparto, per gli esami, ma soprattutto anche per il tirocinio. Comunque, allora, non è tanto approfondito come libro, però diciamo che dice le cose essenziali, diciamo così. Ultima cosa che mi sono presa come libro del primo anno è stato questo libricino che io mi sono portata fino al terzo anno, ovvero l'ICMP. Diciamo che per chi ha frequentato il mio ateneo è un libro utile, per chi non l'ha frequentato assolutamente non compratelo perché non è indispensabile. Diciamo che nel mio ateneo veniva utilizzato spessissimo, cioè veniva utilizzato spessissimo, praticamente tutto si basava su questo libricino sacro. Devi sapere vita, morte, miracoli di questo libricino, quindi è stata un po' una sorta di bibbia, se devo essere sincera. Non ricordo assolutamente di aver, insomma, usato altri libri, se devo essere sincera. Al massimo, massimo, ogni tanto prendevo dei libri dalla biblioteca e poi dopo li restituivo. E secondo me non è essenziale che voi compriate dei libri. Uno, potete fare affidamento alla biblioteca assolutamente. Potete anche sicuramente campare di dispense, magari approfondire proprio leggermente nei libri, ma se campate con le dispense, con i vostri appunti, con le slide che vi rilasciano i professori, tecnicamente non dovreste trovare particolari difficoltà. Consiglio meno di comprare i libri, contate che la maggior parte di tutti i libri che vi ho citato li ho tenuti tutti, tranne esclusivamente il Craven, perché non mi piaceva proprio come il libro, ma proprio, cioè, no. No, 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 no. Poi successivamente ne ho presi altri, molto, ma molto più utili secondo me, però sempre punti di vista, insomma. Quindi ho voluto fare, diciamo, una carrellata abbastanza breve e concisa, facendovi vedere comunque i vari libri che ho preso. Tutti questi libri li ho presi praticamente su Amazon, voi li trovate dentro la mia vetrina di Amazon, nella sezione infermieristica. Se qualora mi dovessi essere persa qualche altro libro, sicuramente me lo metterò in didascalia da qualche parte, sicuramente anche e soprattutto nell'infobox. E niente, quindi questo qui era il video haul dei libri che praticamente ho utilizzato durante il primo anno di infermieristica. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto, se avete dubbi, domande, perplessità, lasciate appunto dei commenti sotto nel video oppure semplicemente scrivetemi in privato. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io spero tantissimo che questa luce, questa inquadratura un po' così vi piaccia, che sia un attimo un po' più professional a me. Non dispiace per niente questa inquadratura. Niente, quindi se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi, appunto di seguirmi nei miei vari social. Ci vediamo sicuramente con un prossimo video e io intanto vi mando un bacione gigante. Cheers! Ciao! 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 Ciao!